Una visita ad Auschwitz è da fare una volta nella vita, solo per capire o provare a capire fino a che punto può arrivare la follia umana. All'uscita, dopo la visita, si ha una percezione delle cose un po' diversa. È un luogo che porta a riflettere un qualcosa che resta nella vita di ogni persona, del proprio bagaglio culturale e della propria coscienza. E adesso sono nel vento, ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento. Nel freddo, giorno d'inverno, e adesso sono nel vento. E adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio è strano. Non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io piedro, come può l'uomo, uccidere un suo fratello. Eppure siamo a milioni, in polvere qui nel vento. In polvere qui nel vento. Mancora. No riesco ancora a sorridere qui nel vento. Ma un'acqua, un sacco di organi, in polvere qui nel vento. Non riesco ancora a sorridere qui nel vento. In polvere qui nel vento. E penso che ci ha un'acqua. In polvere qui nel vento. Atit� è un bel vento. E poi nel vento. Non riesco anche a sorridere. In polvere qui nel vento. Buona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana e ancora ci porta il vento io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà e il vento si poserà e il vento di sangue la bestia umana e il vento di sangue la bestia umana e il vento